Benvenuti telespettatori di Le Fonti TV a questa nuova puntata, la prima del 2022, che dedichiamo alla rassegna stampa di Le Fonti Legal. Si tratta del primo numero dell'anno e, come ogni anno, è il numero che abbiamo dedicato alle eccellenze 2022. Si tratta appunto delle eccellenze nel panorama legale e professionale, chiaramente, che abbiamo selezionato per fare il punto sulle evoluzioni e le prossime trasformazioni che riguardano i settori chiave del 2022. Ecco, andiamo a vedere proprio la nostra copertina con i volti, insomma, dei professionisti che abbiamo intervistato e protagonisti di questo approfondimento. Abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali per le imprese, di strategie di organizzazione aziendale, di nuove tecnologie, ma anche di contenzioso arbitrati con la nuova riforma della giustizia in vista di ristrutturazioni, restructo in compliance aziendale, privacy e data economy. Insomma, nelle pagine che seguono troverete un ampio approfondimento che riguarda proprio questi settori, andiamo a vedere proprio anche un estratto dell'articolo di presentazione di questo speciale. Giusto per darvi un'idea abbiamo parlato della sfida decisiva per il trasferimento dei dati personali al di fuori dell'Unione Europea, dell'estensione della compliance ormai a tutti i tipi di reato. Abbiamo parlato anche dell'attuazione della legge delega sul processo civile, dell'entrata in vigore a maggio 2022 del nuovo codice della crisi di impresa e abbiamo affrontato anche il nuovo regime che riguarda il patent box con un occhio particolare alle, diciamo, agevolazioni per le imprese. Ma troverete tutte le interviste ai nostri protagonisti, agli avvocati e professionisti che abbiamo sentito all'interno appunto di questo numero. Andiamo noi adesso oltre e ci concentriamo su un'intervista che abbiamo realizzato e dedicato al Legal Council Europe di Coca-Cola. Andrea D'Agostino che ha fatto il punto con noi sui nuovi progetti e gli investimenti per la company. In particolare abbiamo parlato del fatto che la multinazionale Coca-Cola ha lanciato per i prossimi anni la sua campagna globale di marketing che si chiama Real Magic e il team legale ha proprio il compito di affiancare il business nelle valutazioni dei risultati e dei rischi sui singoli mercati, di rivedere gli accordi di marketing e le sponsorizzazioni ma anche di gestire i profili regolatori e di compliance. Quindi insomma un ruolo chiave quello del Dipartimento legale di Coca-Cola per il prossimo sviluppo della compagnia. Altra notizia importante di questo inizio anno è la elezione a Presidente del Consiglio Nazionale Forense dell'Avvocato Maria Masi. Importante per una serie di motivi. L'Avvocato Masi è il primo Presidente donna alla guida dell'Avvocatura proprio dalla fondazione del CNF a oggi anche se in realtà come sappiamo da marzo 2020 ha svolto le funzioni di Presidente in seguito alle dimissioni presentate dall'ormai past Presidente Andrea Mascherin per le note vicende giudiziari che lo hanno riguardato e che hanno riguardato in particolare la sua nomina. Si spera quindi che appunto con l'elezione dell'Avvocato Masi finalmente il CNF non ritrovi, ritrovi assolutamente, quella continuità e stabilità necessarie per affrontare le prossime sfide dell'Avvocatura. E appunto come le fonti legal abbiamo affrontato anche noi le prossime sfide dell'Avvocatura basandoci in particolare sull'intervento del Presidente dell'Ordine dei Avvocati di Milano Vinicio Nardo che ha tenuto in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 dove ha parlato di crisi medievale dell'Avvocatura, questo perché per via delle tante correnti contrastanti all'interno della categoria e questo è un problema che ormai va avanti da diversi anni. Ma ciò che fa riflettere su cui ci siamo soffermati è proprio il dato sulle cancellazioni degli Avvocati dall'Albo, chiaramente per quanto riguarda Milano, nel 2021. Sono 664 ed è il record di sempre e il che impatta chiaramente sull'andamento degli iscritti all'Albo che è il risultato in crescita di sole 198 unità rispetto al 2020 e si tratta di un risultato, insomma di una crescita che non era così bassa ormai dal 1990, quindi bisogna andare indietro di oltre 30 anni, sempre per quanto riguarda chiaramente l'Ordine degli Avvocati di Milano, ma a questo aggiungiamo il numero più basso di iscritti al registro dei praticanti che sono praticamente poco più di mille e questo insomma ci dà l'idea di un quadro generale di fuga dalla professione forense che riguarda sì in questo caso l'istretto di Milano, ma che riguarda come abbiamo testimoniato anche in passato ormai tutta Italia, quindi a maggior ragione l'importanza di aver ritrovato continuità all'interno del CNF risulta avere un ruolo chiave proprio per le prossime sfide che attendono l'Avvocatura, tra tutte insomma ricordiamo, insomma non c'è bisogno poi di stare qui a ricordarle ogni volta la riforma della giustizia, l'attuazione del PNRR e via dicendo. Bene, con questo io ho concluso con la rassegna stampa di Le Fonti Legal, vi do appuntamento alla prossima puntata e vi chiedo di restare con noi.